Ciao perline! Allora, in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial di questo modulino qua. Ecco qua. Allora, l'orecchino è molto carino, compatto, non è moscio, è anche abbastanza semplice, bisogna fare attenzione soltanto ad alcuni passaggi. Allora, il materiale necessario per poter effettuare questo modulino, al quale non ho dato ancora un nome, sono, allora, una perla da 8 mm, una goccia, superduo, ce ne vorranno solo 6, perle da 4 mm, solo 4, due colorazioni di 11.0, due di 15.0 e rocai 8.0. Naturalmente monachella, ago e filo. La prima cosa da fare è quella di incastonare, diciamo così, la perla da 8 mm. Quindi mettiamo sul lago la perla e 10 rocai 11.0. Andiamo tutto alla fine del filo. Io per comodità ho messo una stopping bead, così non devo stare lì a tenere teso il filo. E rientriamo all'interno della perla. Ecco qua, così. Aggiungiamo altre 10 rocai 11.0. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E rientriamo nuovamente all'interno, quindi dalla parte opposta. Ecco qua. Così. Allora, adesso ripassiamo all'interno di tutte le perline, quindi delle 20 perline, e fuoriusciamo da una rocai qualsiasi. Allora, una volta ripassata all'interno di tutte le 11.0, fuoriusciamo da una 11.0 qualsiasi. E lavoriamo praticamente a peyote. Prendiamo una 11.0 e ci inseriamo, saltando una perlina, nella rocai successiva. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Allora, una volta effettuato il giro a peyote con le 11.0, adesso non dobbiamo far altro che due giri con le 15.0, per stringere bene l'incastonatura attorno alla perla. Allora, quindi inseriamo una 15.0 e ci inseriamo nella 11.0 successiva, quella sporgente. Aggiungiamo un'altra 15.0 e ci inseriamo nella 11.0 sporgente. E dobbiamo fare questo per due giri. Allora, una volta chiusa con le 15.0 sul davanti, dobbiamo uscire da una delle 11.0 sporgenti sul retro. Ok, dobbiamo aggiungere 3 rocai 11.0, saltare la 11.0 sporgente che si trova dopo e rientrare in quella dopo ancora. Ora, così, stessa cosa, quindi altre 3.0, saltiamo questa qui e rientriamo in questa qui. e lo facciamo per tutto il giro. Ecco qui, una volta aggiunto le triplette, dobbiamo uscire dalla rocai centrale delle 3 appena inserite. Inseriamo una 11 e ci infiliamo nella rocai centrale della tripletta successiva. Facciamo questo per tutto il giro. Ora, una volta incastonata la perla, dobbiamo uscire da questa rocai. Inseriamo una rocai 11.0 e ci inseriamo nella rocai successiva. Spero che si vedano i passaggi, probabilmente ho sbagliato ad utilizzare questa colorazione. Comunque, ecco qua, si andrà a incastrare così. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. A questo punto si saranno formati 10 spazi. Allora, all'apice, quindi qui e qui, aggiungiamo 2 super 2. 2 super 2. Nei 4 spazi laterali aggiungiamo una 8.0. Quindi, 2 super 2. Poi, qua, dobbiamo aggiungere una 8, una 8, una 8, una 8. Altri 2 super 2 qui. 8, 8, 8, 8. Allora, una volta aggiunte le super 2 e le 8.0, fuori usciamo dal foro alto di una super 2. Inseriamo sul lago una super 2.0. E 3 rocai 11.0. Portiamo tutto alla fine del filo. Rientriamo nell'altro foro della super 2.0. E fuori usciamo dal foro alto della super 2.0. A questo punto aggiungiamo una perla da 4.0 e ci inseriamo nella 8.0. Aggiungiamo 3 rocai 11.0 e ci inseriamo nella 8.0 successiva. Non vi preoccupate se a questo punto il lavoro si arriccia. Comunque si raddrizzerà nel passaggio successivo con l'aggiunta delle 8.0. Quindi altre 3.11.0 e ci inseriamo nella 8.0. Ecco qua. Un'altra perla ed entriamo nella super 2.0. Adesso dobbiamo fare lo stesso passaggio che abbiamo fatto qui. La stessa cosa vale per il laterale. Una volta effettuati tutti i passaggi dobbiamo trovarci ad uscire dalla rocai centrale sulla super 2.0. Quindi quella che si trova sulla punta. Dobbiamo aggiungere 3 rocai 11.0 e rientrare all'interno della stessa perlina. Ecco qua. Non mette proprio a fuoco oggi. Fuoriusciamo dalla rocai laterale. Aggiungiamo 3.11.0 e ci inseriamo nella perla. Dopodiché, una volta usciti dalla perla, aggiungiamo una 8.0 e ci inseriamo nella rocai di punta della tripletta. Un'altra rocai 8.0 e ci inseriamo nella punta della seconda tripletta. Dopo non ne vuole sapere di mettere a fuoco oggi. Altra 8.0 e ci inseriamo nella punta della tripletta. Altra 8.0 e ci inseriamo nella perla. Poi prendiamo 3.11.0, ci inseriamo nella prima rocai della tripletta che si trova sopra la super 2. Rientriamo in quella centrale. Inseriamo 3 rocai 11.0 e ci inseriamo nuovamente nella rocai dalla quale stiamo uscendo. usciamo dalla rocai laterale e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte. Quindi l'aggiunta delle 8 qui, delle 3.11.0 qui, prima della perla. Allora, una volta fatto tutto il giro, aggiunto le 8, le 11, eccetera, fuori usciamo da questa perlina qua. Allora, aggiungiamo una 11 e ci inseriamo nelle 3 rocai prima della perla, in modo da unire il tutto. Entriamo nella perla e usciamo dalla 8.0. Qui. Aggiungiamo 3 rocai 11.0 e ci inseriamo nella 8 successiva. Altre 3, 11.0 e ci inseriamo nella 8 successiva. Scusate, allora, 3 rocai 11.0. Usciamo dalla 8, altre 3 rocai 11.0 ed entriamo nella 8 successiva. Entriamo anche all'interno della perla. Spero che i passaggi siano abbastanza comprensibili. Esco dalle 3 rocai 11.0 dopo la perla. Inseriamo una 11.0 e ci inseriamo nella tripletta di punta. Giriamo il lavoro e fuori usciamo da questa parte. Adesso, da questa parte, dobbiamo fare gli stessi passaggi che abbiamo fatto dall'altra. Allora, arrivati a questo punto, io farei già il cappietto. Io lo faccio così, aggiungo 6 rocai 15.0, 3, 4, 5 e 6. Furiesco dalla rocai e rientro all'interno della rocai. E a questo punto non ci manca che fare la decorazione e mettere la goccina. Allora, per fare la decorazione, dobbiamo uscire dalla perla da 4 mm. Allora, usciti dalla perla da 4 mm, aggiungiamo sull'ago 7 rocai 15.0 e ci inseriamo in questa 11.0. Metti a fuoco. Ecco qui, questa qui. e si vanno a sistemare. Aggiungiamo altre 7 rocai 11.0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ci inseriamo nuovamente nella perla. Ecco qua. Usciti dalla perla, aggiungiamo 3 rocai 11.0 dell'altro colore e ci inseriamo in questa rocai di punta, sopra la super duo. Aggiungiamo altre 3.0 11.0 e ci inseriamo nella perla dall'altra parte. Adesso facciamo la stessa decorazione da qui, qui con le 15 e qui con le 11. Ora, a questo punto non ci resta che aggiungere la goccia, se volete. fuoriuscite dalla rocai 11.0 di punta, quindi quella che si trova dall'apice opposta del cappietto naturalmente. Aggiungete sul lago 4 rocai 11.0 la goccia e un'altra rocai 11.0. così. Rientrate all'interno della goccia e di due rocai 11.0. Ce la posso fare? Ce la faccio. Ecco qua. Aggiungiamo due rocai 11.0 e rientriamo all'interno della rocai dal lato opposto. Ok. E abbiamo aggiunto la nostra goccia. A questo punto i nostri orecchini sono pronti. Ciao ragazzi! È stato un parto fare questo tutorial, spero si siano capiti tutti i passaggi. Ciao! Ciao!